Ragazzi buongiorno, oggi mentre apriamo pacchi vi spiego un po' quella che sarà la mia riabilitazione e mi fa un po' ridere perché qui dentro avevo comprato un po' di cose per i futuri viaggi che purtroppo ho dovuto posticipare e c'è anche un po' di attrezzatura medica che mi aiuterà da qui in avanti perché come sapete se avete visto l'ultimo video, una quindicina di giorni fa mentre ero in vacanza in Sicilia ho avuto un incidente. Sfortunatamente sono stato investito da un gommone riscontrando ferite profonde e tre dita amputate al piede destro. Per questo motivo sono stato portato d'urgenza al Policlinico di Palermo dove oltre ad aver ricucito tutta la marmellata che era diventata il mio piede fortunatamente sono riusciti a salvare due delle tre dita amputate che in questo momento sono fissate al piede come degli spiedini da un filo d'acciaio. Detto questo direi che con molta calma, non con la mia classica erruenza mi sposto dietro i pacchi e iniziamo ad aprirli. Poi per chiunque di voi fosse interessato a capire com'è strutturata e come devo curare la mia ferita, poi alla fine facciamo un po' di laboratorio infermeristico e vi spiego cosa dovrò fare per i prossimi due mesi più o meno. Andiamo! E per chi se lo stesse chiedendo in questo momento ci troviamo a Padova a casa dei miei genitori che mi stanno dando una mano in questo periodo di disabilità. Partiamo con il primo pacchettino. Io non ho idea di cosa ci sia dentro tutte queste cose ho ordinato un po' di roba per i viaggi e ci sono un sacco di attrezzature mediche stranissime e particolarissime che mi hanno consigliato alcuni medici e fisioterapisti. Ah ok vabbè, la cosa più stupida all'inizio fin da subito. Questa qui l'ho presa perché in studio ho un sodastream e in una bottiglia grande dello sodastream ho perso il tappo. Volevo prendere tappo e bottiglia particolare penso che sarà troppo piccola. Mettiamola da parte, buttiamo via. Dopodiché qui abbiamo... Ah ok, questo qui un po' mi fa abbastanza rosicare. È appena arrivato, mi è appena stato consegnato Dio bello. Il visto per andare in Russia. Infatti oggi sarei dovuto andare in Russia con Masha per conoscere i suoi genitori e andare al matrimonio della sua migliore amica. Saltellando così non è proprio la cosa più pratica farsi 10.000 e più chilometri. Comunque dato che me lo chiedete spesso, quando sono in Italia per richiedere tutti i visti per fare tutti i miei viaggi utilizzo un servizio che si chiama Visafai. È praticamente un portale un'agenzia completamente online dentro il quale potete richiedere visti per un sacco di paesi diversi. Di solito quando sono in Italia mi appoggio sempre a loro perché non ho voglia di perdere tempo in migliaia di scartoffie e soprattutto non ho voglia di andare fisicamente nei consolati. Quindi spedisco il passaporto a loro e poi si occupano tutto di loro. Visafai non sta sponsorizzando questo video ma dato che il fondatore di questa piattaforma Davide è un amico. Ottimo lavoro Davide e più che altro Davide ti chiederò se hai una qualche offerta per questa community e se c'è ragazzi ve la lascio qui sotto in descrizione che magari vi fa qualche sconto. Detto questo andiamo avanti che qui ci stiamo perdendo in sacco. Ok perfetto un altro pacco che non c'entra nulla con il tema di questo video. Ottimo avevo bisogno di un po' di ricariche del Sodastream gasatore dell'acqua se non lo conoscete. Io sono disabile dove cazzo vado. Alla fine di questo video avrò la gamba sinistra devastante un polpaccio. avanti. Ah ok 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 qui abbiamo un cuscino ergonomico. Che figata che poi si gonfia tutto. Ah ok vabbè questi non c'entrano nuovamente nulla. Pezzi di plastica per fare il ghiaccio in frigo e questo qui adesso pian piano si gonfia ed è un penso che l'abbiate capito è un cuscino ergonomico per mettere il piede in scarico. Non riesco a farvelo vedere no. Faccio danni. Io dovrei stendermi a letto e la notte così riesco a tenere il piede sopra la mia testa e quindi gira meno sangue e sta a scarico. Questo mi aiuterà mentre dormo. Sai cosa io voglio aprire questo qui grande adesso. Oh sì che figata. Captain and sound. This bag is made from 100% recycled materials. Come sapete io sono amante e ricercatore di accessori da viaggio, zaini, borse, bagagli e loro mi hanno scritto su Instagram e mi hanno detto possiamo mandarti le borse? Sono stati dei grandi perché non mi hanno chiesto niente in cambio e mi hanno detto provale. Io le apro in questo unboxing. Ho preso tutto color sabbia. Dovrebbe aprirsi da dietro. Figo si apre del tutto e qui si accede al main compartment. Ok. Qui c'è un'altra tasca. Poi qua davanti è un'altra tasca ancora. Qui c'è un'altra tasca ancora. Quante tasche è questo zaino? Tutto impermeabile. Sembra anche un buon materiale durevole. Il compartimento in mezzo. Da provare. Grazie di avermelo mandato. Trattiamolo bene. Olè. E qui dentro. Sto sudando tantissimo. Facciamo così. No non ho risolto un cazzo. Rialzarlo mentre spremi. Eh sì. Ho tre arti io. Non ne ho sei. Ognuno ha quello che si merita. Oh. Sì. Sei la gloria che mia mamma vedesse tutto sto casino in salotto. Potrei considerarmi morto. Bello. Volevo cambiare il classico nero. Un trolley che bisognerà provare. Bello. Probabilmente per me è un po' troppo piccolino ma provarlo non fa male. Ecco. Adesso sta iniziando a circolare troppo sangue nel piede e io ho bisogno di sedermi e alzare il piede. Oh. Ho fatto otto giorni di ricovero al policlinico lì a Palermo e questo diciamo che forse è il primo sforzo. Io l'anno prossimo divento Iron Man. Qui abbiamo sempre oggetti per il Sodastream. Sempre oggetti per pulire Sodastream. E questo utilissimo. Questo me l'ha consigliato Gabriele. Un ragazzo che sfortunatamente ha avuto anche lui un incidente però in macchina e ha avuto problemi con le sue dita. Ho molto ridere. Sembra un preservativo per il piede ed è esattamente un preservativo per il piede per riuscire a farsi la doccia. Con questo si può andare anche dentro la piscina. Non andrò dentro la piscina però è tutto tipo a mo' di cuffia. Infilo il piede. Ovviamente dovrò stare molto attento allargarlo tantissimo e con questo mi faccio la doccia serena. Non vedo l'ora perché adesso a lavarsi a pezzi non so chi l'abbia mai fatto per operazioni e periodi in ospedale non è proprio bellissimo. Questo pacco qui ha passato più vicende del mio piede probabilmente. Ci sono ci sono. Molto bene. Questo qui penso che lo conoscete tutti è il Fritzbox 7590 perché nell'ufficio dove lavoriamo io e mio fratello io non mi sposto ci sposto sul mio fratello è arrivata la fibra. Qui come ultimo pacco e dopo vi spiego anche la mia medicazione e la mia ferita per chi non sviene vedendo il sangue. Non faremo vedere sangue. Mi sento tipo novantenne. Molto interessante adesso come mettano i cuscini in sottovuoto. Non ho le forbici. Questo qui si gonfia ed è un cuscino lombale da mettersi sotto per il mal di schiena. Torniamo di là e vi spiego cosa mi aspetta da qui nel prossimo mese per la riabilitazione. Sto rischiando quattro dita. Allora qui come vedete ci sono un po' di medicinali vari. Garze sterili, amuchina med, amuchina, acqua ossigenata, soluzione fisiologica, bende, garze grasse, garze magre, un po' di tutto. Perché per questi 30 giorni io non ho un gesso. Cioè io in questo momento la caviglia la posso muovere e riesco anche a muoverla. Il problema principale di quello che mi è successo al piede è che ho una ferita molto grande che parte da qui più o meno e fa una sorta di V. Va su e poi giù. E qui si era praticamente aperto così. E io riuscivo a vedere l'osso, il metatarso mi pare che si chiami, del piede. Ho visto due volte la mia ferita. La prima in mezzo al mare dove ho sollevato il piede e mi sono guardato e la situazione era drammatica. Da lì in poi non l'ho più guardato. Ho cercato di arrivare a riva trascinandomi. E la seconda per caso perché non avrei voluto guardare avevano appena finito di togliere la medicazione e avevano messo sopra dei teli che avevo chiesto io di mettere perché non volevo vedermi il piede. Ha tirato via questi teli prima dell'operazione e l'ho visto e riuscivo a prendermi l'osso dell'alluce. In tutto avrò una quarantina di punti penso se non di più. E questa ferita praticamente hanno preso hanno preso la coperta che è la mia pelle che era in questa situazione qui l'hanno rimessa e hanno messo i punti. Dopodiché ho una ferita anche questa profonda che praticamente ha preso le tre dita qui, le ha tagliate da qui dietro e le ha sollevate e in realtà è andato anche un po' in profondità come ferita. Infatti ho punti che vanno giù da questi due lati e che poi collegano tutto da qui a qui. Il problema per la mia mobilità futura non sono tutti i punti perché i punti una volta che si è sotturato tutto in 15 giorni dovrebbero togliermi. Io vado in ospedale in qualunque ospedale da un medico e il medico prende mi toglie i punti. Il mio problema sono le ossa rotte perché ho perso un dito e le altre due dita. Il terzo dito e non avvicino la fotocamera probabilmente in qualche inquadratura lo avete anche visto. Ho un filo che lo infilza e arriva al metatarso e questo qui è stato perso e questo qui ha un altro filo che lo infilza e arriva al metatarso. Il problema di questi due qui è che ovviamente devo cercare di muoverli il meno possibile. Non si sa quanto, quanto torneranno a muoversi, se torneranno a muoversi e soprattutto quando verrà tolto il filo come andranno a posizionarsi all'interno del mio piede. Di tutta questa fasciatura in realtà avrei bisogno soltanto di questa parte da qui in su per proteggere le mie dita. Di tutta questa parte qui è stata messa in ospedale per farmi ricordare Riccardo ricordati che hai un problema a quel piede quindi devi evitare di andare a sbattere con qualsiasi cosa. Comunque al di là di tutto in questi 30 giorni dovrò rifarmi tutte le medicazioni per le ferite ogni 2-3 giorni e queste sono le cose per rifare questa medicazione che avete visto ora. Tra 7-10 giorni mi tolgono i punti e tra un mese mi sfilano i fili dalle due dita riattaccate. In quel momento riusciremo effettivamente a capire qual è la situazione, che tipo di fisioterapia dovrò fare e quanto lunga sarà la fisioterapia. Sicuramente per la mia riabilitazione dopo questi 30 giorni dove avrò questa fasciatura avrò sicuramente altri 1-2 mesi, probabilmente 2 mesi, dove dovrò riprendere prima la totale mobilità della caviglia perché adesso sì la posso muovere, mi hanno consigliato anche di muoverla, però ovviamente è abbastanza incatenata e la mobilità di tutte e quattro le dita che non si sa se per due di queste si potrà riprendere. Per il momento è andata molto bene perché avendo le ossa vive quando sono arrivato in ospedale avevano paura di infezioni perché ero in mezzo al mare e sono stato colpito da un'elica di metallo, cosa non ideale. Ad ora sembra che la marmellata che avevo si stia riappacificando. All'inizio mi hanno detto che non hanno nessuna certezza su quella che sarà la mia camminata e la mia corsa futura, io col c***o nella mia testa già corro, iscrivetevi che nelle prossime avventure mi vedrete correre. L'ho già detto nel video precedente, grazie mille del supporto perché io non mi faccio buttare giù neanche dai sassi, però grazie a voi ho avuto un sacco di energia durante il ricovero lì a Parermo e anche durante questi giorni dove sono limitato a quattro metri quadrati che posso raggiungere saltellando, cosa che per me non è normale ma mi ci abituerò e tornerò a quella che è la mia normalità. I bagagli per i viaggi li testerò e correrò, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!